Una bella vittoria ieri a Verona, tanto morale, però ritorniamo a Reggio convinti che il lunedì si deve vincere col Crotone. Sì, importante per il morale, importante per chi aveva giocato magari meno e ritrova entusiasmo, però ora ci aspetta una gara troppo importante col Crotone in cui dobbiamo fare risultato. La vittoria di Crotone è regala a San Siro dopo la stagione 2008-2009, è una bellissima emozione per chi anche non è mai andato a San Siro. Sì, credo che la maggior parte di noi non siamo mai stati a San Siro da giocatore, se non da spettatore, anche io sono stato da spettatore ma non da giocatore, quindi credo che sia una grande soddisfazione per tutti. Lunedì comunque arriva il Crotone, è sempre un derby, una partita particolare, l'hai detto tu prima anche in conferenza, l'importante non è tanto giocare bene ma vincere. Sì, siamo arrivati ad un punto che la cosa più importante ormai è vincere perché quando sei quintultimi ha quasi, non dico andata finita, però siamo nella parte finale dell'andata, è importante fare i tre punti. Tu comunque sei arrivato al retrato molto folto, la concorrenza c'è, come ti senti? Ti vuoi giocare naturalmente le due chance? Sì, credo che me le sia giocate anche abbastanza bene nelle ultime partite che ho fatto, il reparto retrato sì è la verità, sono sei giocatori, più o meno allo stesso livello, tutti e sei bravi, però starà al mister decidere chi sta meglio in un determinato periodo, chi sta meglio in un altro, io penso di essermi fatto trovare pronto e spero di continuare. Sì, credo che continuare.